libro terzo capitolo 3 la croce di same bright lettura di damiano mostacci la località detta a croce di same bright si trovava alle spalle di shore by quasi a limitare della foresta di tanstall in questo punto confluivano due strade che poi scendevano unite fino a shore by quella che veniva da hollywood attraverso la foresta e quella che scendeva da risingham e che un anno prima era stata percorsa in disordinata fuga dall'esercito sconfitto di lankester qui su di un piccolo rilievo del terreno non lontano dalla strada sorgeva un'antica croce elogorata dalle intemperie e qui giunse dick verso le sette del mattino faceva un freddo mai sentito la terra coperta di brina era argentea e a oriente il giorno si annunciava con una ricca gamma di tinte dal rosso all'arancione dick sedette sul gradino più basso della croce si avvolse ben bene nel tabarro e si accinse ad attendere girando vigile lo sguardo tutto intorno ma non dovete attendere molto perché ecco scendere dalla strada di hollywood caracollando su di uno splendido destriero un cavaliere coperto di un'armatura ricchissima e lucente su cui faceva spicco un mantello di pelliccia rara lo seguiva una ventina di passi un drappello di lancieri i quali però si arrestarono appena furono in vista del luogo dell'appuntamento il cavaliere in mantello di pelliccia proseguì da solo e il volto che la visiera alzata lasciava vedere esprimeva un'imperiosa nobiltà in tutto degna della ricchezza delle vesti e delle armi che indossava non fu quindi senza una certa confusione che dick si alzò in piedi e mosse incontro al suo prigioniero grazie signore per la vostra puntualità disse alquanto goffamente non volete compiacervi di smontare da cavallo siete solo giovanotto chiese l'altro non sono tanto ingenuo rispose dick per essere schietto con la signoria vostra il bosco da una parte dall'altra della croce è pieno di miei fedeli con le armi pronte ben fatto disse il lord e tanto più me ne compiace in quanto ieri sera combatteste da temerario più come un bestiale fanatico saraceno che come un guerriero cristiano ma non tocca a me che ho avuto la peggio biasimarvi aveste la peggio signore perché così piacque a dio rispose dick ma se le onde non mi avessero aiutato la peggio l'avrei avuta io voi vi divertiste a tenermi in vostro potere segnandomi più volte con il marchio della vostra daga e questi segni li porto ancora su di me in fin dei conti signore credo che se in quello scontro alla cieca sulla spiaggia mio fu tutto il pericolo mio fu anche tutto il vantaggio vedo che siete abbastanza astuto da non dar peso a ciò che accadde rispose lo straniero no mio signore non astuto ribatte dick perché non cerco di fare il mio interesse pensate piuttosto che rivedendovi alla luce di questo nuovo giorno e constatando quale nobile cavaliere mi si è reso arreso non a me soltanto ma alla fortuna alle tenebre all'onda e quanto diversamente avrebbe potuto volgersi lo scontro date la mia inesperienza e la mia pochezza non può far meraviglia signore che io mi senta perplesso e confuso della mia vittoria parlate bene disse lo straniero il vostro nome il mio nome se vi piace è shelton rispose dick mi chiamano lord foxham disse l'altro se è così mio signore e con il vostro permesso voi siete il tutore della più amabile fanciulla d'inghilterra rispose dick e se è così non può esservi dubbio circa le condizioni del riscatto vostro e degli uomini che si arresero con voi sulla spiaggia chiedo alla vostra volontà e benevolenza signore di concedermi la mano della donna che amo joan sidley e in cambio riprendetevi la libertà vostra e quella dei vostri uomini e accettate anche se non la disprezzate la mia gratitudine e finché io viva i miei servizi ma non siete voi il pupillo di ser daniel così credo se siete il figlio di harry shelton perché così mi è stato detto rispose lord foxham signore vogliate compiacervi di smontare da cavallo volentieri vi dirò chi sono in quale situazione mi trovo e perché sono così ardito nel chiedere vi supplico signore sedete su quei gradini ascoltatemi fino alla fine e giudicatemi con indulgenza nel dir questo dick porse una mano al lord foxham per aiutarla a smontare lo accompagnò fino alla croce lo fece sedere dove prima si era seduto lui e stando rispettosamente in piedi davanti al suo prigioniero gli raccontò la storia delle sue fortune fino allo scontro della sera innanzi lord foxham lo ascoltò e quando dick ebbe finito disse master shelton siete un giovane gentiluomo fortunato e sfortunato un tempo se non che la fortuna ve la siete largamente meritata mentre la sfortuna non l'avete meritata in alcun modo ma ora coraggio perché vi siete conquistato un amico che non è privo né di potere né di favore per quanto riguarda voi personalmente devo riconoscere che sebbene non convenga persona della vostra nascita mescolarsi con dei fuori legge siete valoroso e degno molto pericoloso in battaglia di perfetta cortesia in pace d'animo eccellente generoso nel contegno per quanto riguarda invece le vostre proprietà queste non le rivedrete se non quando il mondo torni a cambiare finché l'anchester prevarrà ser daniel se le godrà piacer suo per quanto infine riguarda la mia pupilla ebbene io la promisi un tempo a un gentiluomo uno della mia casa di nome hamley è una promessa vecchia ai miei signore e adesso ser daniel la promessa lord shoreby lo interruppe dick e la sua promessa benché più recente ha maggiori probabilità di essere mantenuta è la pura verità rispose lord foxham e allora considerando anche che sono vostro prigioniero senz'altra alternativa che la vita e che inoltre anzi soprattutto la fanciulla è disgraziatamente in altre mani sono disposto così stando le cose a promettervela aiutatemi dunque con la vostra brava gente ma signor mio esclamò dick sono quegli stessi fuori legge con i quali mi rimproveraste di mescolarmi siano quel che siano sanno battersi ribatte lord foxham aiutatemi dunque e se fra noi due riusciremo a riprendere la fanciulla ebbene sul mio onore di cavaliere sarà vostra sposa dick piegò il ginocchio davanti al suo prigioniero ma questi balzando agilmente in piedi dal gradino della croce su cui sedeva fece alzare il ragazzo da terra e lo abbracciò come un figlio vieni disse se devi sposare joan bisogna che siamo amici fin d'ora grazie per l'ascolto se le racconto ti è piaciuto per favore metti un like per sostenere il canale e se sei già iscritto attiva la campanella per non perdere le prossime uscite